Io vi ho scusato un consiglio che per esigenze personali devo allontanarmi, non mi sorprarvi la discussione conoscete, non per sbagliarsi in politica, però per tutti i contingenti un treno che mi aspetta. Chiedo scusa, lascerò le indicazioni al prossimo direttore che potrà relazionare sui padini con i giocamenti personali. Chiedo scusa, se ne auguro, buon lavoro. Allora, la parola ha fatto un consiglio di riuscire, sento il principio di... Poi io... la prima cosa... l'ho detto, ho già visto, ho dovuto parlare con... E perciò, dico, qui oggi abbiamo... a quattro caso, questa facciamo è la... Sì, da oggi... oggi ho visto che il consigliere mi sovallo, no? Ieri abbiamo avuto un giorno lì, abbiamo un primo di, diciamo, si deve andare. E quindi penso che, come è stato fatto e poi è stato, oggi ci potete consentire di fare rispettare. Ma io penso che non ci sono dei miei, allora, loro qui sono delle due, abbiamo due, abbiamo due, abbiamo qui, vai la mezza, abbiamo qui, vai la mezza, va bene, e ci pigliamo, noi ci sono quasi, diciamo, a metà, io sono disponibile anche a notti, abbiamo due paio, ci abbiamo l'occasione, perché noi abbiamo il viaggio, quindi io faccio appena, ma durante le posizioni, dobbiamo fare un 5 minuti di lavoro, facciamoci un po' in qualcosa, ovviamente abbiamo il viaggio, e abbiamo il viaggio. Oggi ci potete, come dovete fare il giorno, qui dopo, vedete, come, dove l'opposizione ci consentite di scrivere il momento. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.